Sono Fernando Dinella e diciamo che sono uno degli operai tra quelli più anziani dell'azienda e in pratica noi siamo doppiamente penalizzati a livello che ci mancano pochi anni per andare in pensione e quindi i nostri contributi scenderanno di parecchio, volevo solo precisare questa cosa. Quindi c'è pure un aspetto che non avevamo considerato previdenziale. Sì, perché ora si sa che le pensioni non so se l'hanno allungato, l'hanno ridotto, non si capisce più niente. Vi ringrazio.